Padre, ho finito. Va a aiutare tua madre in cucina. Era Eulalia. La gioia della mia vecchiaia. La ricordavo più piccola. È quasi una donna ora. Lavora dall'alba al tramonto, è devota e obbediente. Perché non mangi qualcosa? Ha cucinato lei? La gioia della gioia. Sabbia. Non se ne accorgeranno. L'acqua vite e la frutta macerata daranno sapore. E la sabbia filtrerà le impurità del vino di Gioffre. Attenzione! Regina. Non sei felice di vedermi? E tuo marito? Non si chiederà dove sei a quest'ora? Io ho detto che andavo al convento di John Keres, ma le monache mi aspettano domani. Io ho detto che andavo più piccoli. Grazie a tutti.